Cioè, ma dai, io non posso lavorare così, ma mi fa proprio schifo, cavolo! Ma dai, ma guarda che sedie! Ma io qua, cioè, io davvero devo stare qua? Mi state prendendo in giro, vero? No, come in tutti i reality show ti abbiamo messo nel tuburio, nella grotta, quello che è, nella stanza di torture. E un'aria meno incazzata, per favore. Su Rai 1, i raccomandati. Un malcostume tutto italiano per un prime time tutto italiano. Visto che sei la sorella di uno di noi, fossi in te, non salirei sul pulpito, eh? Vabbè dai, siamo in Italia! Su Rai 2, i R, medici in prima linea. La quindicesima e ultima stagione negli States sta per finire. Questo significa che in Italia cominceranno le repliche delle altre 14. Su Rai 3, mi manda Rai 3. Ma come, sei raccomandata anche in Rai? Su canale 5, i Cesaroni. E a seguire, Matrix. Alessio Vinci ha rilasciato una serie di interessantissime dichiarazioni a sorrisi. Sul fatto che corre a Villa Bordese. Sul fatto che gli piace Roma. Sul fatto che col bel tempo è brutto chiudersi in palestra. Questo, signori mei, è il livello di informazione ai giorni nostri. Su Italia 1, le Iene Show. Voglio l'intervista doppia! L'intervista doppia! Ma, eh, tu sei una sola. E io la vedo lo stesso. Ma, una bella inchiesta? Le Iene mica fanno solo interviste doppie? Ah no? Sul Rete 4, Hype Crimes. Sottotitolo, Crimini di Stato. Una specie di bignami per i nostri politici. Sulla 7, un viaggio nell'Italia contemporanea. Condotto da Antonello Piroso. Niente di personale. Solo le Jet Personam. Su All Music, Rapture. Su MTV. Stasera niente MTV. Vediamo, che battuta faresti? Ah, ma non so, non ce n'è una lì che non abbiamo mai fatto. Guarda, non so, queste sono quelle dell'altra volta. No, no, già fatte. Niente MTV? Già fatte. Già fatte. E... No, già fatta. Le abbiamo fatte tutte. Eh, vabbè. Allora, stasera niente MTV. A domani. Eh, se i palinsesti cambiano, non date la colpa a me. Io sono registrata. Allora, stasera niente. 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 Allora, stasera niente.